Una guida per chi guida. Questo è il libro scritto dal dottor Marco Guidarini che vi presento subito. Marco Guidarini che appunto è ortopedico e specialista ambulatoriale per quanto riguarda appunto l'ortopedia dell'Asle 8. Poi è anche presidente dell'associazione motociclisti in Columi. Ma do anche il benvenuto al direttore dell'unità operativa di ortopedia e traumatologia dell'ospedale San Donato di Arezzo. Allora dottor Caldora parto da lei perché voglio dire due professionisti che lavorano all'interno dell'ospedale di Arezzo ma entrambi motociclisti. Vero dottore? Assolutamente sì. C'è una differenza tra me e il dottor Guidarini. Io sono un amante della moto e guido da sempre in moto, lo utilizzo sia per divertimento che per il lavoro ovviamente. Il dottor Guidarini invece è un pilota motociclista con tanta esperienza e che da sempre si tratta sta occupando di questo argomento, cioè di come prevenire gli incidenti dei motociclisti. Ha fondato appunto un'associazione a scopo benefico, non a scopo di lucro, una ONLUS praticamente che si chiama appunto come dicevi te AMI. L'obiettivo è quello di divulgare i principi per cui noi dovremmo e dovremmo essere più sicuri sulle strade, avere meno incidenti. Ovviamente siccome sulle strade siamo tanti ad andarci, non soltanto le due ruote come sapete, quindi è un argomento che vorremmo iniziare a divulgare che per quanto riguarda la sicurezza stradale, gli elementi sono i pedoni, gli automobilisti, i motociclisti e i ciclisti. Ed è secondo me un progetto di sicurezza che deve guardare anche al futuro in questo senso. Non è più possibile sostenere questo tipo di viabilità in Italia e nel mondo, ma soprattutto in Italia. Sappiate che in Italia ci sono 600 macchine ogni 1000 abitanti, non so se lo sapevate. Sì, la cifra del genere l'avevo letta infatti. 600 macchine ogni 1000 abitanti e qualcosa è un'implosione insopportabile. Quindi ai fini di ridurre l'inquinamento, la tossicità, 66.000 morti all'anno nuovi in Italia, soprattutto per patologie polmonarie legate all'inquinamento. E' una buona parte dell'inquinamento, voi sapete non è il riscaldamento, ma sono anche i motoveicoli. Non possiamo quindi pensare di non sviluppare l'utilizzo delle due ruote, perché comunque le due ruote, moto e bici, riducono l'inquinamento, ma nel contempo dobbiamo creare maggior sicurezza. La sicurezza si crea con dei dati tecnici che il dottor Guirarini ci farà vedere, ma con una nuova mentalità di educazione civica. Educazione civica applicata alla strada, educazione civica stradale è quello di cui parleremo. Allora, questo libro nasce, ce l'ha già presentato il dottor Caldora, e viene anche premiato in Spagna. Sì, abbiamo avuto un premio europeo a Madrid nel 2007, diciamo dalla prima versione, molto più stringata, questa è molto più ampia. Abbiamo avuto un premio europeo su 50 lavori presentati da varie università europee, siamo arrivati i secondi, ci hanno dato anche 6 mila euro di premio. Cioè, queste università europee praticamente studiano i fenomeni che può aver accennato il dottor Caldora. Studiano la sicurezza, l'ergonomia, eccetera. Quindi di paesi anche tipo l'Olanda, il Belgio, c'è dalla Polonia, equip universitarie che studiano principi di ergonomia, principi di costruzione delle strade per rendere appunto, come diceva il dottor Caldora, le nostre strade più sicure. Ne parliamo nel senso, questo è il periodo estivo, no? Perché si dice, il periodo estivo si va in bicicletta, si va in moto, ed è questo il periodo in cui anche negli ospedali si presentano problematiche, ma anche morti. Abbiamo visto insomma un giovane ragazzo un mese e mezzo fa che è morto in una maniera che in questo libro viene anche insegnato quanto è importante saper cadere sotto un certo punto di vista, mi sembra di aver capito, no? Chi me lo spiega? Sì, in realtà dovremmo dividere due aspetti della sicurezza stradale. Una che fa parte comunque dell'aspetto tecnico, di cui Guidarini è un esperto. Quindi, come controllare per esempio il veicolo, come mettersi alla guida del veicolo, come rispettare le regole della strada, come prevenire gli incidenti, perché ci sono degli elementi molto semplici, lui adesso piano piano farà tante puntate e lo spiegherà, ci sono dei principi che riducono statisticamente le morti e gli incidenti sulla strada. Però, d'altra parte io dico, ed è per questo che sono venuto, che questo aspetto tecnico va coniugato comunque con l'aspetto istituzionale, vorrei dire anche se vogliamo politico, perché comunque bisogna costruire le case, scusate, le strade in una maniera più corretta e più consona a ridurre gli incidenti. Comunque dovremmo considerare che una persona inabile alla guida è un pericolo per se stesso e per gli altri. Lancio una considerazione di cui mi prendo la piena responsabilità, lo dico io, e che è un messaggio che io rivolgo al politico, e cioè se per guidare lo scooter la patente minima a 16 anni e per quanto riguarda la macchina a 18 anni, quindi noi giustamente il legislatore ha posto un limite per cui il guidatore è troppo giovane e non è abile. Questa cosa va trasferita anche alla maggiore età, cioè quando noi diventiamo anziani, diventiamo, come dire, meno efficienti. Per cui, per quanto mi riguarda, per quella che è la mia esperienza globalmente da medico, al di sopra degli 85 anni la patente andrebbe tolta d'ufficio. È ovvio che una persona anziana deve avere altre soluzioni, mi piacerebbe pensare che una persona di soli 85 anni debba avere, per esempio, l'abbonamento gratuito dell'autobus o piuttosto che del treno. Si trovare poi delle soluzioni. Delle soluzioni, ma sicuramente guidare al di sopra degli 85 anni per quella che è la condizione biologica di quella persona anziana, sicuramente è un rischio per se stesso e per gli altri. E questa è un'osservazione importante. Allora, dottor Guidarini, c'è il fatto stesso di scrivere questo libro, lei ha messo anche delle fotografie. Esatto. Perché? E questo si ritorna alle amministrazioni, come diceva il dottor Caldora, no? Io vedo un luogo che per me, Passegnano sul Casimo, non lo conosco benissimo, c'è questa foto, effettivamente qui sono morte tante persone, no? È questa di qua, lo dico al mio regista, questa di qua. Effettivamente è un lungo lago e c'è questo lampione. Montato al contrario, cioè il palo è stato montato al contrario, lì io ho raccolto informazioni sulla dinamica dell'incidente, un ragazzino con lo scooter veniva in avvicinamento, è stato affiancato da un'autovettura, velocità 40 km d'arri, 40 km d'arri, l'autovettura che lo stava superando, quindi aveva fatto 50, ha visto un'autovettura che veniva incontro un pochino, quindi non ci passavano in tre, ha stretto ovviamente purtroppo il ragazzino. Quindi questi lampioni, come dovrebbero essere montati? Allora, i lampioni devono essere, per rispettare i principi di ergonomia, devono essere piuttosto distanti dalla strada. Il lampione deve illuminare la pista pedonale e non la strada. Oggigiorno tutti i veicoli hanno fargli allo iodio, allo xenon e quindi non hanno bisogno di lampioni. E soprattutto il palo deve essere distante e non in via di fuga delle curve. Quello che noi piloti, negli autonomi, consideriamo sacra, la via di fuga, i circuiti sono resti sicuri dal 1970, grazie anche a Giacomo Agostini, perché sono stati tolti gli ostacoli fissi dalle vie di fuga. Quindi in questo libro lo possono leggere tutti, però anche i ragazzi giovani che cominciano a prendere la patente, perché poi chiamiamo decimeli, possiamo dire, del dottor Guidalini. Sono decimeli, praticamente indica lo sviluppo del casco dovuto alle esperienze di piloti che hanno voluto appunto mettere a disposizione proprio know-how. Qui si va dai caschi che usavano nel 1950, questo è un casco che usavano i motociclisti all'epoca di Omobono Tenni, i grandi campioni. Poi si passa un casco un po' più rigido, perché i motociclisti, anche i campioni, a forza di battere testate hanno detto forse è meglio qualcosa di più rigido, protegge di più. E fino ai caschi moderni, che sono un vero gioiello di tecnologia. Che dopo quanto tempo lei l'ha dovuto cambiare? No, io questo purtroppo l'ho cambiato perché sono cascato a Mugello, dopo un mese e mezzo che l'avevo acquistato, e siccome è un casco che costa abbastanza. E poi questo è il paraschiena. E questo è un paraschiena. Ovviamente casco e paraschiena proteggono il sistema nervoso centrale, che è la parte più delicata e più nobile del nostro organismo. Se ci sta una frattura di tibia e perone, è un guaio, ma insomma... È relativo. Se invece si rimane sulla sedia a rotelle, si comincia a essere... Esatto, è peggio. Quindi la comandazione che diamo a tutti i ragazzi, non a caso in pista, sono obbligatori questi... Certo, sì, sì, è vero. Un buon casco, che non è necessario arrivare a questi livelli, ma oggigiorno con 200 euro si compra già un buon casco. Si posa un buon casco. Meglio in fibra che in policarbonato. Ma comunque è importante che rispetti la normativa CIE. Comunque in questo libro si trova in tutta Italia, vero questo libro? Sì, tramite la nostra associazione, che è appunto l'Ami Onlus, www.motociclisti-encolumi.com si può acquistare online. Ma tanto ci ritroveremo ancora per presentarlo ancora con più dettagliatamente. Noi, ecco, ci tengo e per questo vi ringrazio anche per utilizzare il metodo che utilizza la medicina dei congressi per divulgare le proprie esperienze o l'aeronautica con i briefing pre-volo. Prego. Allora, abbiamo concluso qui il nostro spaccato. Vi ripresento i nostri ospiti, il direttore dell'unità operativa di ortopedia e tramatologia dell'ospedale San Donato di Arezzo, Patrizio Caldora, e il dottor Marco Guidariri in veste di motociclisti ormai da tantissimo tempo, ma anche ortopedico all'interno dell'ospedale San Donato di Arezzo. Grazie.